buongiorno e benvenuti a questa video presentazione oggi sono qui con l'esperto di zanzare per rivolgerli alcune domande buongiorno ho sentito dire che le zanzare sono gli animali più pericolosi al mondo ma come è possibile le zanzare risultano essere molto più pericolose di animali apparentemente più temibili come squali scorpioni serpenti in quanto sono dei vettori ossia degli organismi in grado di trasmettere pericolose malattie da un soggetto malato ad un soggetto sano le malattie trasmesse dalle zanzare mentre si nutrono del nostro sangue provocano complessivamente oltre 800 mila morti l'anno altri vettori come le mosche zezè i flebotomi pur potendo trasmettere gravi malattie sono meno diffusi e causano meno decessi la malaria ancora oggi la malattia da vettore più diffusa ogni anno colpisce diversi milioni di persone e provoca oltre mezzo milione di morti soprattutto in africa oltre alla malaria quali altre malattie possono trasmettere le zanzare tra le più gravi e comuni troviamo febbre gialla dengue cicungunya e zika tutte diffuse per lo più nelle aree tropicali solo la febbre gialla può essere prevenuta grazie ad un vaccino efficace i virus che provocano queste malattie non sono di norma presenti in italia ma possono venire introdotti da viaggiatori che li hanno contratti all'estero quando questi soggetti vengono punti da determinate specie di zanzare queste ultime si possono infettare e trasmettere la malattia ad altre persone ma quindi è possibile ammalarsi di queste malattie anche in europa purtroppo sì negli ultimi anni alcune persone si sono malate senza essersi recati fuori dal continente questo è capitato per la cicungunya con oltre 500 casi registrati in tre paesi a partire dal 2007 e per la dengue con oltre 50 casi evidenziati in quattro paesi tra il 2010 e il 2020 per entrambe le malattie a diffondere l'infezione è stata la zanzara tigre di origine tropicale ma ormai diffusa in tutta l'europa centro meridionale anche in italia sì in italia si sono verificate tre epidemie accertate le prime due di cicungunya con un numero rilevante di casi nel 2007 in emilia romagna e nel 2017 nel lazio con successiva propagazione in calabria e un paio di casi correlati rilevati altrove la terza di dengue con un numero limitato di casi si è verificata nell'estate 2020 in un comune del veneto ci si può ammalare semplicemente entrando in contatto con una persona infetta no queste malattie non si trasmettono direttamente da persona a persona ma solo mediante l'intervento di determinate zanzare che sono definite competenti ciò significa che quando pungono una persona malata queste zanzare a loro volta si infettano e in seguito possono trasmettere i virus a soggetti sani durante un successivo pasto di sangue ma esiste un modo per ridurre il rischio che le zanzare diffondano queste malattie? certo agendo a vari livelli ad esempio in Piemonte l'IPLA controlla il territorio per definire dove e quando le zanzare presenti possano costituire un rischio per la popolazione il Seremi raccoglie invece le segnalazioni di medici ospedali per identificare le persone che presentano patologie trasmissibili dalle zanzare così che l'IPLA possa intervenire laddove necessario per evitarne la diffusione i comuni hanno invece il compito di intervenire sui siti di riproduzione presenti nelle aree e negli edifici pubblici al fine di mantenere bassa la presenza delle zanzare è però necessario che i cittadini intervengano in ambito privato dove spesso si trova la maggior parte dei siti di riproduzione delle zanzare che vanno individuati, eliminati o opportunamente trattati Sui giornali ho letto anche di un'altra malattia la febbre del Nilo occidentale Sì, da qualche anno in molte regioni italiane è comparso il cosiddetto virus del Nilo occidentale o West Nile virus originario dell'Africa e probabilmente introdotto in Europa da uccelli migratori infetti Quindi questa malattia colpisce solo gli uccelli? Purtroppo no Il virus viene normalmente diffuso tra gli uccelli della zanzara comune ma in particolari condizioni ecologiche possono venire infettati anche l'uomo, il cavallo e altri animali Questi però non possono a loro volta trasmettere il virus alle zanzare anche se un uomo che ha contratto il virus può trasferirlo a una persona sana attraverso donazioni di sangue, altri tessuti o organi infetti E tutto ciò come si può evitare? Con la prevenzione Ogni anno, non appena si scopre che in una certa zona il virus ha iniziato a circolare cioè a diffondersi tutte le donazioni di sangue, altri tessuti e organi provenienti da quest'area vengono accuratamente controllate Come si fa a sapere se il virus sta circolando in una zona? Attraverso un sistema di sorveglianza I dati relativi ad eventuali infezioni rilevati nell'uomo e nel cavallo vengono integrati con i dati raccolti negli uccelli dalle asle e nelle zanzare dall'Ipla in centinaia di siti sparsi per il Piemonte I campioni vengono successivamente analizzati dall'Istituto Zooprofilattico di Torino e in base a questi dati vengono inoltre intensificate le operazioni di prevenzione Bene ragazzi, per oggi è tutto Al prossimo collegamento!